Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buono. Passa la quadra, i piedi, i piedi Marco, i piedi, tienigli i piedi con le mani. Libera il braccio. Gira, 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 gira. Capovolta. Vai, vai, tienila. Lavora di nuovo, passa il ginocchio, passa il ginocchio con la mano. Libera il braccio, libera il braccio. Spingi la mano a terra e libera il braccio. Controlla i piedi, i piedi, i piedi, i piedi, i piedi, i piedi è pazza. Usa la testa. Quindi il ginocchio pazza. Sì, bravo. Controlla il piede, occhio a triangolo, occhio a triangolo. Lavora bene col braccio destro. Cerca di prendere spazio col braccio destro. Sì, sali su con la testa, non chiude, sali su, non schiude. Controlla i piedi, controlla i piedi, lì, passa, passa, passa. Passa le gambe, passa le gambe. Sento il braccio americano. Prendi sulle pancia, prendi sulla pancia, mano sinistra. Orientare nella guardia. Appena apri, devi passarla. Seduto, su eduto, sulla testa. Passa la gamba. Su eduto, seduto di nuovo, spingi con le mani. Sì, stai lì. Spingilo giù. Sulla testa, sulla testa. Sulla testa, così. Ciao! Grazie. 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 Grazie.